L'Italia candida a Milano ad ospitare la nuova sede del Tribunale del Brevetto Europeo. Dopo la beffa del sorteggio per l'Agenzia Europea del Farmaco EMA, finita alla fine ad Amsterdam e in sostituzione di Londra dopo la Brexit, l'Italia prova ad aggiudicarsi una delle sedi del Tribunale Unificato del Brevetto Europeo, quella relativa ai settori chimico e farmaceutico. A far ben sperare il fatto che il Tribunale si avvale già di tecnologia italiana per gestire la propria piattaforma interna, realizzata da una società con sede a Bologna, la Net Service. La partita si giocherà nei prossimi mesi e l'Italia, forte del terzo posto in Europa dopo Germania e Francia per numero di brevetti consegnati, cerca di compattarsi in Europa come confermano i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo. Sono convinto che la candidatura di Milano sia la candidatura in questo momento di gran lunga più autorevole per ricoprire e rivestire in futuro il ruolo di terza sede centrale del Tribunale Europeo dei Brevetti a fronte non solo del fatto che la società che gestisce appunto la sua piattaforma, la Net Service a sede a Bologna, ma per motivi ancora più pregnanti, quali ad esempio il fatto che l'Italia è per ammontare di domande registrate il terzo paese in Europa, ma è anche il paese che ha in Milano la sua capitale della ricerca e anche appunto dell'innovazione, perché delle 4.600 domande italiane ben il 24% vengono proprio da Milano. La transizione ecologica e digitale faranno sì che moltissime imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, avranno nuovi progetti, nuovi materiali, nuovi processi di industrializzazione che meritano una tutela brevettuale. Noi grazie anche alla sinergia con i grandi centri di ricerca e le università che abbiamo sul territorio potremmo offrire al Tribunale altre professionalità altamente qualificate. Le possibilità di successo sono alte, c'è una minaccia che è quella per cui gli uffici di Londra verrebbero divisi tra la Francia e la Germania dove già c'è una sede. Noi siamo perché non ci sia la soluzione transitoria, che poi ci porterebbe diciamo in uno stato di fatto difficile da recuperare con la divisione delle competenze di Londra tra questi due stati e invece vogliamo che ci sia subito l'assegnazione definitiva dell'attività di Londra portandolo appunto a Milano. Quindi la partita è in corso, le possibilità sono alte però naturalmente aspettiamo i risultati per dire la parola definitiva.